cari amiche e cari amici eccomi qua di nuovo tra tutte e tutti voi so che avete sentito la mia mancanza anzi molte e molti di voi a causa proprio della mia mancanza si sono disiscritti dal mio canale avevo raggiunto quasi le 800 iscrizioni adesso ne ho quasi 500 comunque se ritorno è perché un sacco di cose sono cambiate e ho fatto tantissimi video dall'ultima volta che ho fatto un live in spreker nel mio canale di youtube youtube mi deve 76 dollari soltanto che hanno posto un ulteriore limite alle monetizzazioni del canale per cui adesso servono 4000 ore all'anno dei visual di views per rimanere monetizzati io non ho perso la partnership però mi hanno tolto le monetizzazioni vabbè che a quel ritmo avrei impiegato un altro anno per ricevere i 100 dollari perché prima non ti pagano però adesso mi hanno tolto la speranza di riceverli questi soldi questi benedetti soldi e io che sono disoccupato ne avrei proprio bisogno allora vi dicevo perché vi racconto tutto questo perché vi racconto in live i fatti miei che forse a voi non ve ne può fregare giustamente di meno ma è per il semplice fatto che udite udite niente po po di meno che ho dedicato tanto tempo a youtube e mi sono scordato di spreker che veramente spreker è la cosa più bella che c'è non so vabbè grazie gli ammiratori di spreker hanno concordato con me hanno annuito no ma quello che volevo dire è che la cosa più bella che c'è di spreker e che paradossalmente è gratuito quindi tu in spreker trasmetti per la pura soddisfazione di trasmettere non ti danno nulla quindi fai le cose soltanto per condividere i tuoi pensieri e le tue idee fai i programmi radio senza nessuna aspettativa per avere una diffusione planetaria perché io in cinque anni ho appena avuto 70 mila ascolti o poco più forse 90 mila non lo so ma non c'è questo tutta questa aspettativa di ricevere fama di ricevere denaro e quindi proprio a tempo perso che puoi trasmettere invece con youtube siccome aumentano le iscrizioni siccome aumentano le views siccome poi tu monetizzi i video e ti dicono che ti devono 75 dollari 78 ti pagano dopo tre anni ti pagano me hanno dato 150 dollari allora è logico che tu hai delle aspettative invece con spreker è una cosa che io sognavo sempre essere radio amatore da bambino e non avrei mai immaginato che da un cellulare si potesse essere radio amatori anche perché quando ero bambino io non c'erano i cellulari logicamente meno che mai applicazioni per diventare radio amatori quindi bando alle ciance questa è stata un'introduzione di dovere perché da molto tempo che non radio trasmetto e quindi ho spiegato le mie ragioni dell'assenza da spreker spero di recuperare la vecchia audience e di avere audience nuova in spreker ma chiaramente un programma così può scocciare non pochi quindi adesso vi esprimo delle idee all'aria anche perché alle 16 alle 16 in punto non so voi tutti voi che starete facendo a quest'ora se starete portando ai vostri bambini a fare ginnastica a fare sport al dopo scuola a fare ripetizioni che adesso dovrebbe essere dovrebbe essere il momento questo degli esami più o meno si dovrebbero preparare anche a recuperare materie non solo voi tornate dal lavoro andate al lavoro già si ha pranzato quindi avete pranzato in ritardo state in macchina mi state ascoltando dalla macchina non lo so comunque ecco uno dei pensieri miei va rivolto all'ultimo degli argomenti che ho fatto per youtube a parte i video che ho caricato ballando ne ho caricati tre se vi interessa i miei ultimi video di danza li potete trovare nel mio canale di youtube e poi mi commentate cosa ne pensate magari nei commentari a questo radioprogramma io ho anche un canale di soundcloud ma funziona poco non mi segue quasi nessuno in soundcloud allora dicevo uno degli ultimi temi è stato quello elettorale ho parlato prima e dopo delle elezioni circa le elezioni stesse e molte cose che sono successe io le ho predete modestia parte perché ormai il vostro santenchan c'ha 49 anni e tre mesi essendo nato il 26 gennaio 1969 nella città di roma quindi io egregie ed egregie ascoltatrici egregie ascoltatori ne ho viste molte fin dall'infanzia che mi hanno fatto sembrare la politica uno degli oppi del popolo come anche le religioni con tutto rispetto parlando e il calcio perché servono fino a un certo punto a che serve la democrazia viviamo in democrazia mi sono chiesto perché un ascoltatore di youtube me l'ha questionato ma si vive veramente in democrazia tu credi veramente che stiamo in democrazia e veramente ho dei dubbi perché uno elegge dei partiti che metteranno dei senatori e dei deputati nel parlamento che eleggeranno il premier che eleggeranno una maggioranza che eleggeranno un presidente e se tu per la strada ti incontri tutta questa brava gente poi ti diranno lei non sa chi sono io quando invece si dimostravano degli agnellini durante la campagna elettorale quindi mi sembra che noi più di tanto liberi non siamo poi vi invito a guardare i miei video in youtube per sapere quello che ne penso perché ho espresse molte di cose un'altra cosa che ho detto e mi piace mi sta piacendo questa di nuovo questa applicazione di sprecher perché al contrario dell'applicazione di youtube che si surriscalda il mio cellulare con sprecher non si surriscalda il cellulare si scarica solo la batteria una cifra ma non si surriscalda il cellulare che mi preoccupa molto allora un'altra cosa di cui ho parlato e che forse parlerò estensamente in sprecher in un altro live ed è la chiusura dei canali di youtube come voi saprete e io ne ho parlato in youtube ho fatto un video che quasi l'hanno visto 1400 volte in circa una settimana e mezzo una settimana chi ha seguito questo caso saprà che hanno chiuso il canale di matteo montesi gli hanno chiuso anche il secondo canale poi non so se l'ha recuperato matteo montesi live tempi d'oro credo che non l'abbia recuperato e poi ne ha aperto un terzo e si diceva che gli hanno chiuso pure il terzo il terzo non so se l'ha recuperato ma in verità dall'inizio della sua carriera di youtuber tanto lui come terze parti come youtube hanno chiuso un mucchio di canali lui ne ha chiusi due dicono perché stava in una causa di divisione o di divorzio dalla sua compagna non so se era sposato allora per conservare la tutela dei figli siccome aveva paura che video che aveva fatto potevano pregiudicarlo perché faceva il pazzarello gridava faceva vocine mangiava non so un chilo di mortadella in dieci minuti dopo averne strappato la confezione di cellophane con i denti mangiava un pollo intero allora gridava faceva l'esorcizzato allora ha cancellato quei due primi canali quindi io parlo dei problemi che hanno non solo gli youtuber italiani quando gli cancellano il canale di youtube perché dicono e fanno cose che non si dovrebbero dire o fare per lo meno senza mettere il video con una etichetta apposta in edizione che dice video non adatto per il suo contenuto ai minori di età in questo modo magari ti salvi da molte segnalazioni poi non si può fare della discriminazione contro gruppi di persone quindi questi youtubers che fanno polemiche che fanno video discriminativi forse razzisti, xenofobi per raggiungere il successo e per raggiungere il grande pubblico dal palato grosso poi incorrono in denunce e addirittura Matteo Montesi gli hanno rimosso proprio la digos dei video perché ha fatto irruzione in bassi militari abbandonate o in case abbandonate addirittura i suoi stessi parenti lo denunciarono denunciarono, segnalarono un video e fu rimosso da youtube perché lui ha fatto irruzione nella casa mi sembra in una villetta a schiera dei suoi nonni che era abbandonata in attesa di essere venduta doveva passare in eredità quindi era contesa l'eredità di quella villetta ma lui è entrato dentro irrompendo la forza anche se in pratica era anche sua scagliando una bottiglia d'acqua minerale di plastico nel suolo prendendosela con il quadro comandi di una caldaia strappando una cortina lui stesso ha ammesso che quel video lo hanno fatto rimuovere i suoi parenti denunciandolo alla questura quindi se uno vuole fare dei video che lo possono come youtuber compromettere e lui aveva dei canali veramente con tantissimi iscritti e che lo facevano guadagnare molto almeno prenditi la precauzione innanzitutto di segnalare il video non adatto ai minori di età in modo che già ci sia una prima autocensura sul video e poi segnalarlo come video parodico cioè che non dici quello che pensi ma stai interpretando un personaggio e poi naturalmente di metterlo in privato in modo che soltanto le persone che sai e oggigiorno non si sa mai che non denunciano il contenuto del tuo video lo possano guardare perché se lo guarda chiunque si sente discriminato o offeso manda una segnalazione a YouTube YouTube analizza il video anche di 4-5 ore nel quale dici una frase discriminativa e te lo rimuove o addirittura ti fa una segnalazione alla terza ti chiude il canale adesso devo chiudere perché mi mancano 40 secondi vi dico che io sono disoccupato e quindi non pago Sprecher quando dovrò cancellare degli episodi li potrete ritrovare nel mio canale di YouTube Radio San Ten Chan per il momento è tutto mi raccomando se mi volete supportare io non chiedo denaro come fanno molti YouTubers ma guardate i miei video in YouTube e soprattutto condivideteli così mi aiuterete a recuperare la monetizzazione e a guadagnare del denaro grazie per seguirmi ciao dal vostro San Ten Chan grazie a tutti grazie a tutti